Mi ricordo ero lì al centro di allenamento del San Paolo quando mi è arrivata la chiamata di Leo dicendo che era tutto chiuso, guarda abbiamo firmato tutto, è tutto fatto, poi fai la tua vanigia ti devi andare a Milano, la mia vita nel calcio c'è molto a Milano. Conoscere quello che è il Milan, è il calcio italiano e poi quello che ha fatto di vento, quello non sarà mai indimenticabile. Arrivare a Milano con 33 anni in quella squadra che vinceva tutto era quasi, io credo che quasi impossibile. Quando ho saputo che era il Milan dico vabbè vado volentieri perché comunque il Milan è il Milan e sicuramente mi insegnano tanto nella mia vita, crescerò tanto con queste squadre e che così è successo.